Carissimi fratelli e sorelle, Gesù è il Signore, Alleluia! Oggi parleremo brevemente del carisma, del discernimento degli spiriti. Vedremo prima comunque quali sono le condizioni e le conoscenze necessarie per poterlo ricevere, fermo restando che Dio dispense carismi secondo la sua infinita sapienza e può perciò operare diversamente da quanto da noi previsto. Procediamo con ordine e vediamo quali sono queste condizioni. Almeno ne vediamo alcune. La prima è combattere quotidianamente la battaglia spirituale. Partiamo sempre dalla parola di Dio. In Efesini 6, 10-12, San Paolo ci dice La nostra battaglia, infatti, non è contro le creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Ogni credente verace, verace, vive quotidianamente una battaglia spirituale contro ciò che si oppone alla sua natura di figlio di Dio. E spesso gli effetti di questa battaglia comportano implicanze nel mondo fisico, ma la loro origine è sempre di natura spirituale. L'antico nemico, il diavolo, non si rassegna mai e tenta anche in questo modo di avversarci in tutti i modi. Questa battaglia nasce per la gelosia del diavolo e dei suoi demoni a causa della nostra identità spirituale, dell'identità che ci è stata donata. Noi, infatti, siamo stati creati a immagine di Dio sul modello di Cristo ed egli stesso, Cristo stesso, ci conferma questa realtà. Basta leggere in Giovanni 14, versetto 6, quello che dice Gesù Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. È in Lui che ritroviamo noi stessi, è la nostra via. Vediamo adesso un'altra condizione importante per ricevere questo carisma ed è quella di conoscere direttrici principali e strumenti dell'azione diabolica. Nella prima Pietro, capitolo 5, versetto 8, leggiamo L'azione diabolica punta a distruggere l'uomo mediante tutte le armi di seduzione di seduzione che gli sono consentite in effetti egli non potrebbe nulla contro di noi perché non ha accesso né al nostro spirito né alla nostra mente né al nostro corpo perché non può violare la libertà donataci da Dio ma gli è consentito di spiarci e di poter interferire con la nostra mente nella quale può suscitare immagini, fantasie sensazioni e pensieri e alcune di queste suggestioni apparentemente banali possono persino sembrarci innocue e bisogna fare attenzione altre con connotazioni più gravi egli le riveste con maliziosa scaltrezza di apparente legittimità per essere accolte ma tutte fanno perdere di vista il vero senso dell'esistenza attenzione incrinano il nostro rapporto con Dio e con il prossimo e conducono verso la stessa schiavitù di cui il mondo è vittima resta però il fatto che siamo noi stessi noi stessi ad aderire alla tentazione non ci può essere imposta e siamo noi che consegniamo spazi della nostra libertà al nemico ricordiamo che è libero chi può vivere pienamente e senza costrizioni la sua vera identità dunque noi possiamo essere veramente liberi quando viviamo la nostra vera natura dei figli di Dio immersi in colui che ci rivela costantemente la nostra identità che è lo Spirito Santo vale la pena di ricordare che la parola battesimo deriva dal greco e significa immersione e che il battesimo nello Spirito Santo altrimenti detto effusione consiste proprio nel vivere costantemente immersi in Dio e partecipi della sua stessa vita questa è la realtà che dovrebbe distinguere ogni effusionato col battesimo veniamo innestati nel corpo di Cristo che è la Chiesa e il diavolo la vorrebbe distruggere perché essa ci guida a riconoscere la nostra natura ci esorta a vivere la parola di Dio nella quale realizziamo la pienezza della nostra esistenza ci cura ci nutre e ci riconcilia per mezzo dei sacramenti e ci protegge dagli attacchi del nemico questa è la ragione per cui il diavolo la odia ferocemente ogni azione diabolica ha l'intento di seminare menzogne e falsificazioni per scardinare il nostro rapporto con Dio dal quale si origina ogni rapporto umano vero dato che l'umanità è figlia della creazione operata da Dio Padre e per cosa lo fa? Per indebolire e distruggere la fraternità nella Chiesa ed offuscare la sua funzione di sacramento di salvezza per questo il diavolo ha bisogno di non farsi riconoscere per poter operare silentemente e indisturbato e tendere trappole tendere le sue trappole spirituali contro la Chiesa contro i credenti e contro l'umanità condizione rinunciabile per ricevere il carisma del discernimento degli spiriti dunque è un'appartenenza salda e un amore sviscerato per la Chiesa e per la nostra comunità che ne è parte veniamo a una terza condizione che è quella di vivere un sano e costante discernimento spirituale per una conversione reale e continua San Paolo ci dice in Romani 12 versetto 2 non conformatevi alla mentalità di questo secolo ma trasformatevi rinnovando la vostra mente per potere discernere la volontà di Dio ciò che è buono a Lui gradito e perfetto chi ha preso coscienza di questa innegabile realtà spirituale che abbiamo già descritto sa che ha bisogno di vivere in piena comunione con lo Spirito Santo uno stato permanente di discernimento spirituale affinché il suo vissuto quotidiano scaturisca da questo vivere ed operare insieme a Lui anche le cose più banali questa intima convivenza comunque non mortifica la nostra personalità anzi la vivifica la purifica e la esalta perché è proprio per mezzo dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto la vita e la nostra identità da qui nasce la gioia di vivere e di servire compiendo l'opera di Dio attraverso i compiti anche i più umili che ci sono affidati pensiamo alle attività quotidiane pensiamo ai servizi che si fanno in casa tutti questi vanno fatte nel potere dello Spirito Santo da qui nasce la nostra dotta spirituale che prende le mosse appunto da un'attenta opera di discernimento la vita va vissuta con gioia e tutto quello che compiamo nel potere dello Spirito genera gioia genera servizio genera pace il discernimento dunque è un'operazione spirituale permanente che si attua anche con il concorso ovviamente di doti naturali che sono pure esse dono di Dio intelligenza e dono di Dio non ce la siamo data da noi quindi si attua anche col concorso di doti naturali e che consiste essenzialmente nel distinguere il vero bene dal male questo fa il discernimento male che spesso attraverso inganni sottili viene camuffato dal maligno che riesce a farcelo apparire come una proposta benigna per essere più facilmente accolto il discernimento rimane sempre un'operazione spirituale anche quando si vive un momento di deserto e per operarlo in questo caso ci si serve di tutte le doti umane per distinguere per confronto con la parola di Dio attraverso le facoltà intellettive e ciò che è opera di Dio è quel che è buono per il suo regno questo per distinguerlo da ciò che non proviene da Dio o non produce il bene bensì il male appare chiaro in definitiva che non può ricevere il carisma del discernimento degli spiriti che spesso comporta il discernere attenzione situazione altrui quindi non può riceverlo chi non vive una costante comunione di intenti con lo Spirito Santo nel potere del quale il discernimento diviene veste interiore permanente questa è condizione fondamentale vivere un discernimento interiore permanente parliamo adesso del carisma il carisma del discernimento degli spiriti ovviamente altrimenti detto discernimento assoluto partiamo da due episodi degli atti degli apostoli atti 5 versetto 3 ma Pietro disse Anania perché mai Satana si è impossessato del tuo cuore che tu hai mentito allo Spirito Santo e ti sei trattenuto parte del prezzo del terreno e ancora ad atti 16 versetti 16 18 si tratta dell'episodio di paolo che veniva disturbato da un'indovina mentre andavamo alla preghiera venne verso di noi una giovane schiava che aveva uno spirito di divinazione e procurava molto guadagno ai suoi padroni facendo l'indovina essa seguiva Paolo e noi gridando questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza questo fece per molti giorni finché Paolo mal sopportando la cosa si volse e disse allo Spirito in nome di Gesù Cristo ti ordino di partire da lei e lo Spirito partì all'istante nessuno aveva rivelato a San Pietro quello che avevano fatto Anania e sua moglie Saffira e nemmeno San Paolo era stato informato da qualcuno che quella donna era posseduta da uno spirito malvagio e che cercava di sabotare la sua opera anzi sembrava che volesse accreditare lui e gli altri come uomini di Dio e sembrava che compisse un'opera di bene ma in effetti non era così sono questi due esempi di discernimento spirituale assoluto ma vediamo meglio di che si tratta il carisma del discernimento degli spiriti è una particolare luce spirituale che ci permette di vedere sotto l'azione dello Spirito Santo le verità nascoste e anche l'inganno che può celarsi dietro una veste di apparente benignità esso consente perciò di smascherare l'azione subdola e malvagia del diavolo e dei suoi demoni portando alla luce la sua direttrice d'attacco non va perciò confuso come purtroppo a volta accade con l'intuizione con l'agume con la sensitività e con altre doti attenenti alla sfera naturale o peggio a quella preternaturale in quanto il carisma è frutto in primo luogo dell'amicizia con Dio è dato solo a persone di preghiera è piena di sana umiltà e dipende comunque da una scelta operata dalla sapienza di Dio il carisma del discernimento degli spiriti è un istinto infuso questa è la percezione un istinto infuso in virtù di cui si riconoscono quali situazioni quali impulsi e quali pensieri sono da Dio e quali no ed è caratterizzato da capacità di penetrazione degli aspetti più nascosti dove il male cerca di allignare ed ancora da sicurezza e lucidità di giudizio esso esso è mezzo efficace per vagliare la genuinità dei carismi posseduti e permette di intuire se il loro uso è retto e ordinato e inoltre può dare indicazioni sicure quando ci si trova a dover decidere quale via seguire di fronte a scelte da compiere tutte apparentemente buone salvo che alcune di queste potrebbero nascondere insidie malefiche irrilevabili attraverso un discernimento ordinario il carisma del discernimento degli spiriti comporta in definitiva la capacità di distinguere lo spirito buono dal cattivo le ispirazioni di Dio dagli inganni di Satana il quale lo ripeto sempre sa come imbellettarli per farli apparire benigni per farli accogliere magari ispirando la persona buone ma spiritualmente sprovvedute per avvantaggiarsi della loro reputazione ed ancora per distinguere le emozioni della grazia di Dio dai movimenti che riguardano la la sfera naturale la vera profezia da quella falsa il carisma del discernimento degli spiriti è particolarmente utile per aiutare coloro che si sono lasciati sedurre in modo grave dal maligno collaborando con Cristo nella sua opera di liberazione questa è una cosa bellissima in questo campo comunque bisogna lasciare i sacerdoti esorcisti il compito di valutare in modo definitivo le eventuali situazioni sospette e sottoporre sempre al loro discernimento quando lo spirito ci ha fatto percepire diciamo qualche parola sull'esercizio del carisma del discernimento degli spiriti partiamo sempre dalla parola di Dio Filippesi 1 9 10 e perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo il carisma del discernimento degli spiriti va esercitato come già abbiamo detto sempre in un contesto comunitario di preghiera nell'esercizio di questo carisma lo spirito santo coinvolge il carismatico nell'interezza della sua identità egli sviluppa e matura così una sensibilità spirituale che dal suo spirito si riverbera non solo nella mente ma a volte anche nel corpo spesso sotto la forma di qualche particolare disagio che nasce quando ci si trova in presenza di situazioni di disturbo spirituale relativo a persone o legato a particolari luoghi e che il carismatico sa riconoscere con luce la sicurezza ma anche in queste evenienze attenzione mai vengono turbati la pace interiore la carità l'equilibrio personale e il rapporto con Dio in questo contesto in questo incontro comunque data la brevità dell'insegnamento e la delicatezza dell'argomento non scendiamo oltre nei particolari dell'esercizio di questo carisma quello che abbiamo detto sin qui può bastare va ribadito ancora però che chi non è persona di preghiera e non ha assunto il discernimento spirituale come stile di vita generalmente non riceve questo carisma e che chi l'ha ricevuto per ragioni di prudenza non deve esercitarlo in modo arbitrario ma per cautela sua e degli altri deve operare con la supervisione del pastorale o dei fratelli da esso opportunamente scelti oppure di un sacerdote competente in materia ai quali comunica ciò che gli ha suggerito lo spirito santo si tenga presente che questo carisma è costantemente attaccato dal diavolo che vuole demolirlo a tutti i costi lo spirito santo in definitiva opera affinché si compia quanto Cristo ci ha rivelato e possiamo vivere tutti la pienezza della nostra esistenza e possiamo pervenire alla salvezza eterna questo è il motivo per cui San Paolo ci ricorda che la nostra carità si arricchisce se si ampiano le nostre capacità di discernimento e che il discernimento spirituale autentico opera nella carità dunque il carisma del discernimento degli spiriti è mosso dalla carità e ha come finalità la carità stessa spesso supportata anche dalla compassione esso è uno strumento di collaborazione con Cristo per la liberazione dalle opere di Satana per questo richiede un cuore limpido per poterlo accogliere incapace di atteggiamenti di superbia e di giudizio verso chi ha avuto la disgrazia di compromettersi col maligno o che ne è rimasto in qualche modo vittima ci fermiamo qua per oggi Dio vi benedica Alleluia Alleluia